che spettacolo ragazzi veramente una tirrena triatico che non potevamo aspettarci anzi sì perché visto il numero il numero i nomi dei partenti che abbiamo avuto in questa edizione è stata veramente una corsa eccezionale peccato solamente che poi alla fine si è andata a sovrapporre alla pariginizza che pure è una corsa molto importante per avvicinarsi alla milano sanremo e ne vedremo delle belle perché la tirrena triatico signori miei abbiamo assistito veramente a un ciclismo che c'eravamo anche un po dimenticati quello che non guarda più troppo i misuratori di potenza batti di cardiace eccetera ma va avanti di cuore e di fantasia il numero di van der polle ma anche alla felipe insomma abbiamo visto dei dei corridori fantastici po gaccia tenacissimo veramente fantastico è un ciclismo forse da altri tempi ma anche soltanto di 20 30 anni fa è non è che dobbiamo andare a cercare tanto lontano diciamo abbiamo avuto questo ciclismo decisamente migliore rispetto anche a pochi anni passati perché è un ciclismo che non è più fermo ci fa vedere delle imprese fantastiche inaspettate merito di corritori che certamente ne hanno ne hanno veramente tanto da dire salve a tutti intanto come vedete siamo con un giorno di ritardo sul nostro editoriale video senza freni ma ne valeva la pena perché abbiamo voluto aspettare apposta la fine della tirrena triatico e stiamo andando verso una milano sanremo davvero spettacolare la firma che ha messo oggi sulla cronometro finale vote one heart ci dice veramente che insomma lui è sicuramente tra i favoriti ha vinto tutte tappe altre tappe le ha vinte le ha vinte van der poole gli altri non stanno certo a guardare sono in forma crescente anche bettiollo sta crescendo peccato per filippo canna che comunque è arrivato terzo e comunque è arrivato dietro a uno che insomma è arrivato secondo al ha vinto dietro a stefan kung che ha vinto il campionato europeo a cronometro e a van aert che comunque è la medaglia d'argento della prova a cronometro mondiale quindi insomma tutti i specialisti ecco sport abbiamo parlato dell'aspetto sportivo perché è quello che finalmente sta prendendo di più in questi giorni ed è quello che aspettavamo dopo pause e preoccupazioni abbiamo detto il di van der poole van der poole se vi ricordate bene all'uae tour si era dovuto fermare dopo aver vinto la prima tappa perché un componente dello staff della sua squadra si era risultato positivo al covid invece insomma stavolta è andato tutto quanto bene ci aspettiamo una milano sanremo sempre senza pubblico purtroppo ma sicuramente spettacolare ecco a proposito di restrizioni l'italia è quasi tutta quanta in zona rossa questo è un problema ma non tanto per noi che andiamo in bicicletta per fortuna nel dpcm l'ultimo del presidente del consiglio draghi non ci sono restrizioni ulteriori all'attività ciclistica di quelle che già rispetto a quelle che già conoscevamo attenzione perché si è fatta anche un po di confusione tessera non tessera non è la tessera agonistica che certifica l'attività sportiva o meno ok quindi si può praticamente uscire brevemente perché poi insomma bisogna capire anche un po la razio del della legge e certamente non è il momento per andare a rischiare di finire in ospedale questo qui però insomma si può uscire brevemente dal comune purché nella nostra uscita si ritorni poi al punto di partenza quindi casa la nostra abitazione ecco abbiamo parlato di agonismo soprattutto fino adesso c'è anche un appunto interessante perché dopo che Matteo Vanderpol ha vinto in maniera spettacolare le strade bianche c'è stato un po di confusione anche su si è detto un po di tutto sulla sua potenza e abbiamo fatto un articolo apposta lo trovate su staginside.it che vedete alle mie spalle un articolo apposta dove si spiegano alcuni concetti importanti che abbiamo voluto abbiamo voluto fissare tra le novità tecniche questa settimana abbiamo presentato un casco fantastico di Specialized il Prevail 2 Vent è un casco ancora più areato perché Specialized ha potuto ottimizzare la struttura di questo casco la struttura interna lasciando praticamente passare ancora più aria irrobustendo la struttura si può alleggerire il casco soprattutto si possono ampliare i canali di scorrimento dell'aria tra le novità va segnalato anche abbiamo le abbiamo provate in anteprima anche se per poco e poi ve le racconteremo meglio le nuove Pirelli le nuove Pirelli P0 che sono delle gomme dei copertoncini praticamente per camera d'aria molto molto interessanti è uscito un nuovo Bryton un nuovo è un ciclo computer praticamente che sfrutta il gps per praticamente praticità non ha nessun filo da collegare per chi vuole un ciclo computer normale semplice questo qui può essere veramente perfetto e il prezzo è anche molto concorrenziale diciamo nel livello dei ciclo computer e anche gps per cui registra e fornisce quindi in seguito anche dei dati che si possono che si possono analizzare infine abbiamo questa settimana abbiamo registrato anche una bella notizia dall'associazione corridori cpa che si è rilanciata partendo a coinvolgere molto di più i propri corridori ricordate l'anno scorso quella tappa così un po strana del giro d'italia quando in effetti i corridori non fecero una gran bella figura perché venne fuori che alcuni sapevano altri non sapevano c'era questa chat misteriosa dove c'erano alcuni corridori importanti altri no insomma si era fatta veramente confusione adesso il cpa ha stabilito le cose tra l'altro i corridori possono votare anche online soprattutto in questo periodo è ancora più importante quindi si spera che abbiano voce ancora di più in maniera seria come merison e quali sono anche sotto la presidenza di gianni bugno che insomma non ha certo bisogno di presentazioni questa settimana non abbiamo parlato di libri perché ne stiamo per presentare uno che ve lo faccio vedere questo qua che si chiama diavolo d'un corridore è di marco bastonesi ecco qui la copertina rossa ed è un un libro dedicato a renzo zanazzi ci sono delle storie di su zanazzi raccontate qui da marco bastonesi il giornalista che è stato per lungo tempo firma della gazzetta dello sport ha scritto questo libro d'altro non è recentissimo questo libro è però lo abbiamo trovato l'abbiamo acquistato e ve lo racconteremo presto intanto buona milano sanremo e buon ciclismo a tutti buone pedalate buon ciclismo a tutti